Buon pomeriggio, credo che ognuno di noi sia capitato nell'arco della propria vita di avere bisogno di avere un aiuto, un sostegno, anche semplicemente un momento di ascolto, ma ci sarà anche sicuramente capitato di aver sentito il desiderio di fare qualcosa per gli altri, di portare il nostro aiuto, di entrare a far parte di un'associazione. Ecco, questa è un'opportunità che come amministrazione di Pasiano abbiamo creato insieme con il Servizio Sociale dei Comuni Sile e Meduna, ovvero è stato creato un catalogo delle opportunità che illustra quelle che possono essere le possibilità all'interno delle diverse associazioni di proposta di collaborazione. Perché abbiamo sentito la necessità di costruire un catalogo? Proprio per dare ad ognuno di voi la possibilità di scegliere dove meglio spendere le vostre capacità, dove mettere al servizio degli altri le vostre passioni, le vostre abilità. Con questo progetto hai la possibilità di metterti in gioco e l'opportunità di conoscere nuove persone, di creare relazioni, di passare del tempo insieme a persone del territorio, di aiutarci a creare una comunità più coesa. Puoi trovare tutte queste informazioni alla pagina Facebook del sito del Comune di Pasiano di Pordenone, mensilmente il catalogo verrà aggiornato. Quindi, che cosa ci resta, che cosa mi resta da suggerirti? Provaci, leggi i video della pagina e perché no, mettiti alla prova. Grazie per il tuo contributo.